Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato Marvel Comics. Come avrete letto dal titolo, oggi parleremo di Adam Warlock, uno degli esseri più potenti dell'universo, anzi del multiverso Marvel. Ma, e dico ma, oggi non sarò da solo. Come avrete letto dal titolo, oggi sarò insieme al creator e grande amico Man Under The Hood. Amici DJ! Ciao a tutti! Per me è un piacere e un onore essere qui. Io sono Mauro, mi conoscono però tutti come Man, neanche mia madre, ormai i miei parenti mi chiamano più Mauro. Sono un content creator, uno streamer, un presentatore che ama la cultura pop in tutte le sue forme e soprattutto il fumetto, il comics americano. La cosa di cui vado più fiero sono i miei live talks, che sono dei talk show in stile americano dove vado ad invitare le eccellenze della cultura pop nei vari ambiti. Quindi parliamo di recitazione, doppiaggio, fumetto, creazione di contenuti, ma anche musica, WFX e chi più ne ha più ne metta. Come sempre, prima di iniziare, evite di iscrivervi al canale attivando la campanella ed eseguimi in tutti i miei social, compreso TikTok, per rimanere sempre aggiornati sul mondo supereroistico. Oltre a questo, vi ricordo che utilizzando il codice promozionale GDARU20 nel link di Pamplink che trovate sempre qui sotto in descrizione, potete tenere incredibili omaggi a Tema Nerd ma soprattutto supportare il canale. Detto ciò ragazzi, non perdiamo tanto tempo, a voi il video, buona visione. Prima di iniziare a parlare di Adam e delle sue versioni più interessanti, dobbiamo chiarire delle cose. Cos'è l'enclave? Chi è l'alto evoluzionario? E come si suddivide il reparto parentele di Adam? Partendo a bomba con l'enclave, questo supergruppo apparso per la prima volta nel 1967 all'interno delle pagine Fantastic Four numero 66, nacque, o perlomeno una sua bozza, intorno al quinto o sesto secolo dopo Cristo, durante il regno di Re Artù, per contrastare e spodestare il re di Camelot, cercando di appianare le diversità tra contadini e nobili. Tornando all'enclave, questa sorta di setta continuò la guerra contro la morte per numerosi secoli, abbracciando la prosperità e l'innovazione in campo scientifico, fino al 1930, quando cambiò il nome in Gilda degli Scienziati. Questa avanzatissima confraternita, intorno ai primi decenni del 1900, aveva tra i suoi membri le persone più intelligenti del pianeta, o quasi, creando incredibili innovazioni scientifiche e generando uno dei primi supereroi della seconda guerra mondiale, la prima torcia umana. Come molti di voi sapranno, Johnny Storm non fu la prima torcia umana, ma nella seconda guerra mondiale, insieme a Capitano America e Namor, combatteva anche questo incredibile e caliente supereroe che portò alla morte persino lo zio Adolf in persona. Ma questa è un'altra storia. Detto questo, questo supergruppo cambiò molti nomi e si scisse in molti gruppi nel corso del tempo, diventando l'enclave. Ma perché vi dico tutto questo? Vi ho raccontato questo perché questa confraternita di Cerferloni, in un periodo non preciso, fece una scoperta senza precedenti, una vecchia base dei Devianti. All'interno di questo misterioso luogo venne trovata tecnologia quasi futuristica che aprì le porte a molte creazioni e armi dell'universo Marvel. Come potrete dedurre, tra queste creazioni c'era anche la camera d'incubazione da cui nacque Im, il primo nome di Adam, ma come potrete dedurre, di questo ne parleremo dopo. Andando avanti con i chiarimenti, un altro personaggio molto molto importante per Warlock fu Herbert Windham, un famoso genitista che in seguito si fece chiamare l'Alto Evoluzionario. Questo incredibile, potente e sconosciuto personaggio nacque in Inghilterra intorno ai primi anni del 1900 e fin dalla sua giovane età rimase estasiato dal lavoro di Natalien Hexex, il supercriminale conosciuto come Mr. Sinister. Tornando all'Alto Evoluzionario, questo personaggio si trova dietro a molti potenziamenti genetici di casa Marvel, come New Man, animali umanoidi potenziati. I poteri di Jessica Drew, Spider-Woman, creò la prima controterra, o perlomeno una sua bozza. È stato personaggio molto importante per i gemelli Maximoff, se vuoi sapere di più ti consiglio il mio video su Wanda, e diede uno scopo al formidabile Warlock, che armato di una delle sei gemme dell'infinito, cercò di fare il suo dovere. Oh, quasi. Vi dico questo perché Herbert accese la prima miccia di eroismo all'interno di Adam, e se quest'ultimo è un formidabile personaggio, lo dobbiamo anche a lui. Per ultimo, ma non per importanza, Adam, come già accennato, nacque da una camera di incubazione artificiale, creata però con tecnologia deviante. Infatti vi consiglio di recuperare il video di Jay sui Celestiali e sugli Eterni. Ma il suo DNA è presente anche in altri esseri, che sono ad esempio Ayesha Kismet, che è una versione apparsa per la prima volta nel 1977, e creata nuovamente dalle enclave con l'aiuto del dottor strano Stephen Strange. Una cosa da dire di questo Adam 2.0 è che durante la sua prima apparizione aveva le sembianze di un uomo forte e possente, chiamato Paragon, ma quasi tre anni dopo, da questa storia che trovate nel comics Incredible Hulk, anno al numero 66, Paragon tornò all'interno del proprio bozzolo, finendo in fondo al mare ma evolvendosi a livelli esponenziali. Da questa evoluzione nacque una donna conosciuta semplicemente come she o lei, che vedendosela contro la cosa, mostrò subito la sua superiorità. Poi abbiamo la Dea e Magus, che sono due parti della mente di Adam. Questi due incredibili esseri, apparsi uno nel 1974 e uno nel 1992, sono la personificazione fisica del bene e del male, all'interno dello stesso Adam Warlock, che in possesso del famoso guanto dell'infinito, decise di trasformarsi in un dio giusto e logico, dividendo ogni sua parte buona e cattiva in due esseri separati. Queste due potenti personificazioni possiedono gli stessi poteri del loro padre e oltre ad avere dentro il proprio corpo potere cosmico, possiedono anche la consapevolezza, che oltre a portare la mente a conoscere i segreti più antichi del multiverso, li rende un po' più simili alle entità primordiali che ai comuni supereroi di casa Marvel. Una cosa da dire della Dea è che, anche se non viene mostrata quasi mai la sua incredibile potenza, le sue gesta parlano da sole, ponendola allo stesso livello di potere di Adam e Magus, anche se quest'ultimo viene visto da Kang come una delle piaghe peggiori del multiverso, oddio è arrivato il mio momento, posso dirlo, posso dirlo, attenzione questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Ma questa è un'altra storia, mamma mia, domani chiudo il canale e vado a vendere, non so, Dog e Manhattan, sperando di vedere uno Spider-Man che svolazza in giro. Oltre che in questi personaggi che vi ho elencato, i poteri o l'essenza di Adam sono presenti anche nei due gemelli, Eric e Noel di casa Ultraverse, che, fusi in un unico essere, ci ricorderanno proprio Adam, o perlomeno un essere molto molto simile a lui. Finita questa premessa, finalmente parliamo dell'originale Warlock. Terra 616. Apparso per la prima volta nel 1967, all'interno del comics Fantastic Four numero 66, HIM, come già detto, venne creato dall'organizzazione conosciuta come Lenklave, con il solo obiettivo di creare una nuova super razza di esseri umani. Spiegando meglio quest'ultima mia frase, Lenklave, deciso a dar vita all'essere umano perfetto, usò la tecnologia deviante trovata in uno dei punti più misteriosi del pianeta per creare HIM, ma le cose non andarono per il verso giusto. Dico questo perché Adam, dopo la sua nascita, grazie ai suoi incredibili poteri e abilità, si accorse subito che i suoi creatori erano propensi a utilizzarlo per scopi non del tutto buoni, decidendo così di fuggire e allontanarsi, per il momento, dai suoi padri. Durante questa inaspettata fuga, troveremo HIM all'interno delle pagine di Thor 165, intento a mangiare martellate dal potente dio del tuono. Spiegando quest'ultima frase, il gladiatore dorato, altro nome di Adam, confuso e spesato dopo il suo ulteriore risveglio per mano della vecente Hag, decise di rapire la povera Lady Sif per cercare letteralmente di accoppiarsi con lei. Come potrete dedurre, questo atto venne visto molto male, giustamente, dal dio dei fulmini, e deciso a salvare la giovane guerriera, combatté senza tregua contro il futuro Warlock, faticando parecchio ma richiudendo HIM di nuovo dentro il suo bozzolo. Di nuovo in trappola, o al sicuro all'interno del suo bozzolo, l'essere dorato fu rispedito nuovamente nello spazio, ma qualcuno lo trovò e gli diede una missione. Chiarando la frase di nuovo nello spazio, HIM dopo la sua fuga dall'enclave volò dritto nello spazio, trovandosi di fronte a dei detriti spaziali. Questo lo portò per la prima volta, o quasi, a provare i suoi incredibili poteri cosmici, ma per colpa delle sue abilità ancora instabili e acerbe, si rinchiuse nuovamente all'interno del proprio bozzolo, venendo trovato da un osservatore e venendo rispedito dritto sulla Terra. Dopo questo avvenimento, Adam continua a evolvere la propria mente e potenza per numerosi anni, fino al già nominato racconto con Thor. Ma andiamo oltre. Sconfitto dal dio del duono, HIM, vagò per qualche tempo nello spazio profondo, venendo trovato da uno delle menti umane più importanti dell'universo, l'alto evoluzionario. Quest'ultimo, incuriosito dallo strano bozzolo che fruttuava tra le stelle, decise di prenderlo e studiarlo con la sua tecnologia, scoprendo la natura e la storia di HIM. Deciso a studiare l'essere dorato, l'alto evoluzionario riuscì a farlo uscire dal proprio guscio, potenziandolo con la gemma dell'anima e dandogli un nuovo nome, Warlock. Potenziato e con uno scopo, Adam venne mandato nella controterra 616, una terra alternativa creata dallo scienziato in viola e governata dall'uomo bestia, un lupo geneticamente potenziato e evoluto per risultare un umanoide. All'interno di questa terra, HIM diventò il primo supereroe di questa terra alternativa, vendendo essere a controesseri straordinari, persino Hulk con un cip nel cervello, e liberando finalmente questo pianeta dalla tirannia dell'uomo bestia. Andando avanti veloce, arrivando alle parti succose di Adam, quest'ultimo dopo aver salvato la propria controterra, decise di viaggiare per il cosmo alla ricerca di esseri da salvare, diventando un eroe molto molto conosciuto e affinando le proprie abilità. Questo vagare per l'universo fu solo la punta dell'iceberg, perché qualcosa o qualcuno lo teneva d'occhio. Dico questo perché le sue molteplici missioni galattiche erano architettate dal già nominato Magus, una versione distorta e malvagia di se stesso. Quello che avevamo raccontato prima su questo essere è vero fino a un certo punto, perché a quanto pare Magus, oltre a essere una parte oscura di Adam, è anche una versione futura di quest'ultimo. Ma come sempre, lasciatemi spiegare. A quanto pare, in un futuro alternativo della Terra 616, Adam se la vide contro il servo di Lord Chaos e Mastro Ordine. Se vuoi saperne di più ti consiglio il mio podcast, venendo spedito in un punto impreciso del tempo e della realtà. In questo punto, al di fuori da tutto quello che conosciamo, questa versione di Adam fu corrotta e plasmata dalle due personificazioni di ordine e caos, impazzendo e cambiando il proprio essere. Dico questo perché l'Adam del futuro, ormai corroso dal profondo, si tramutò in Magus, finendo in un pianeta dei meandri del cosmo, conquistando la popolazione, e fondando la chiesa universale della verità. Un nome, una garanzia. Questa nuova religione, nata dal punto più lontano dell'universo, venera Magus e gli antichi, purificando con l'amore, o la violenza se non erano ben accetti, ogni parte del cosmo, spargendosi a macchia d'olio per oltre 5.000 anni. Come potrete dedurre, Magus e Warlock di Terra 616 si scontrarono all'interno dei comics che vanno dal 178 al 181 di Strange Tales e dal 9 a 11 della miniserie di Adam, portando quest'ultimo alla vittoria insieme all'aiuto di Gamora, Pip il troll e il titano pazzo Thanos. Come potrete dedurre, questa vittoria cambiò la timeline di Terra 616, portando alla realtà di Magus in una linea temporale alternativa, chiamata Terra 7528, e portando il personaggio a non esistere mai in nessuna versione futura della Terra 616. Questo che ho appena detto è vero fino al 1992, quando nelle serie Infinity Crusade e Infinity War rifece la sua comparsa come parte oscura di Adam. Ma questa è un'altra storia che vedremo nei consigli. Andando avanti veloce con la vita di Adam, quest'ultimo visse incredibili storie intergalattiche insieme a molti esseri cosmici, come Barry Bauman, il primo a livello cronologico Star Thief, il primo inimitabile Capitan Marvel, aiutò i Vendicatori a portare tutto alla normalità dopo la serie famosissima del Guanto dell'Infinito, fece vari team-up con eroi terreni come Spider-Man e la cosa, se la vide con Thanos o contro Thanos, il surfista d'argento e arriva in un punto inaccessibile a qualsiasi essere vivente per dialogare con le entità più potenti dell'universo Marvel e diventando qualcosa o qualcuno di irraggiungibile. Spiegando quest'ultima frase, dopo la famosa e iconica storia Il Guanto dell'Infinito, da cui è tratta tutta l'Infiniti Saga MCU, tutte le gemme dell'Infinito cadero nelle mani della sfigurata Nebula, che decisa a cambiare il suo fato e a vendicarsi, fece molti danni a livello multiversale. Adam, pronto a riportare tutto alla normalità, decise di unire le proprie forze con le Avengers rimasti, il Titano Pazzo, Drax il Distruttore, Silver Surfer, il potente Eros Gamora e Pip, riportando tutto in vita con un semplice schiocco di dita e possessandosi definitivamente del Guanto. Una cosa che non vi ho detto è che Warlock, grazie ai suoi poteri e le sue molteplici missioni galattiche, ottenne una conoscenza e consapevolezza cosmica e raggiungibile da qualsiasi essere vivente, e grazie ai poteri del Guanto riuscì a elevare il suo sé nell'immensa piramide gerarchica Marvel, riuscendo, come già detto, a dialogare e scontrarsi con le entità più potenti della Marvel. Se volete saperne di più, vi consiglio la serie da 42 numeri Warlock and Infinity Watch, che trovate su eBay. Questa piramide, tra virgolette, è la sola e unica cosa che separa i comuni esseri viventi dall'entità primordiali, separando entrambi e dando a ogni essere, divino o no, il suo giusto incarico universale. Per farvi capire, tutte le volte che mi chiedete chi è più forte tra le varie entità, la risposta è sempre la stessa. Nessuno vincerebbe su nessuno, perché ogni essere è lì per svolgere il proprio compito, supervisionato dallo stesso Supremo che circonda tutto e tutti. Andando oltre la storia citata poco fa, Warlock, come già detto, ha vissuto molte storie oltre le galassie, conosciute no. Ma se volete sapere di più, diamo il via ai consigli. Partendo dal più classico, vi consiglio il cartonato di Warlock, trovabile anche nel sito della Panini. Purtroppo, al suo interno, non c'è tutto, ma vi mostra le storie più iconiche del personaggio. La già nominata storia, il quanto dell'infinito, che di solito contiene anche la parte in cui Nebula si impossessa del quanto dopo Thanos, il must have qui è consigliato, la serie americana da 42 numeri, Warlock and the Infinity Watch, che in Italia si chiama Warlock e la guardia dell'infinito, ma tutti e 42 numeri purtroppo sono introvabili. Le storie Infinity Abyss e la fine dell'universo Marvel, intitolato Onnipotenza, dei primi anni 2000. Sui bei questi 4 numeri li trovate veramente a pochissimo prezzo, proprio ve li tirano. La serie La Crociata dell'Infinito, da 9 numeri, più il numero bonus all'interno del comics Marvel Mega, numero 3, dove vedremo la scissione delle parti buone e oscure di Adam da quest'ultimo. Qui esiste il cartonato, ma introvabili a prezzi umani. Le serie di Thanos del 2016, intitolate Thanos, la rivelazione dell'infinito, la relatività dell'infinito, le entità dell'infinito e la fine dell'infinito. Storie carine ma da leggere solo per avere il quadro generale. Marvel Comics presenta 13 e 14 del 94, dove vedremo Silver Surfer insieme a Warlock nella storia Il Patto, qui Adam è abbastanza cinico. La serie Infinity War del 1992, dove vedremo una miriade di cloni corrotti e il ritorno ufficiale di Magus, sono sei numeri trovabilissimi, e Infinity Wars del 2018, dove vedremo una Gamora davvero molto spietata. E per ultimo, ma non per importanza, le varie serie del gladiatore dorato, che potete trovare in giro per il web. Oltre questi, come potrete dedurre, c'è tanto alt, ma la scarsa reperibilità di certe storie mi fa fermar qui con i consigli. Parlando infine dei poteri di Warlock, Adam, come già detto in tutto il video, è qualcosa al di sopra dei comuni supereroi e super cattivi di casa Marvel, perché oltre a possedere una forza, resistenza, agilità e velocità quasi divini, grazie alla sua struttura genetica possiede dei sensi incredibili, che gli permettono di vagare anche solo con la mente in giro per tutto il multiverso, ha la capacità di volare, ha abilità regenerative quasi istantanee, ed è tutto immortale, perché anche se il corpo muore, la sua anima è talmente potente che nemmeno la morte può impossessarsi di lui, grazie alla sua simbiosi con la gemma dell'anima e immune ai poteri della gemma della realtà e del tempo, e si pensa anche delle altre, è un abilissimo telepate chiaroveggente, può manipolare ogni tipo di energia magica e cosmica, o quasi, può manipolare la materia, esempio quando trasformo Thanos in pietra, può vagare per lo spazio, il tempo e la realtà, può espandere il suo sé spirituale ovunque, riesce a viaggiare e manipolare il potere quantico, creando illusioni o cambiando il futuro e il passato, e come se non bastasse può lanciare palle invuocate, così a caso. Queste abilità, temibili anche dalle entità più potenti che governano il multiverso, sono accompagnate dalla consapevolezza cosmica, la conoscenza dell'occulto, una super intelligenza che in confronto Reed Richards non riesce a fare 2 più 2, conosce ogni lingua esistente, è un ultimo tattico manipolatore a tratti opportunista, e conosce ogni stile di combattimento esistente. Quindi se non bastano le abilità che ho appena detto, vi può prendere anche a schiaffi. Detto questo, tutto sto ben di dio, Adam ha anche dei punti deboli, che sono le debolezze a certe magie e incantesimi, la stanchezza, sia anche lui dopo un po' ha il fiatone, e le sue controparti buone e cattive, e avendo i suoi stessi poteri, o quasi, possono tenerli testa e prendere il suo posto. Detto questo, nel corso del tempo Adam si è evoluto sempre di più, e chissà se la cosa continuerà per l'eternità fino a prendere il posto del Supremo, ma questa è un'altra strana teoria. Terra 19141. Apparso per la prima volta all'interno del comic Thanos da Infinity Revelation numero 1, nel 2014, questa versione di Adam ripercorre le stesse origini della versione di Terra 616, ma con una grandissima differenza. Divenne qualcosa di veramente incredibile, ma come sempre andiamo con ordine. In questa storia, che potete trovare nei cartonati di Thanos, consigliati poco fa, vedremo più versioni di Adam e del Titano Pazzo interagire tra loro e le varie Terre, cercando di scoprire il motivo dell'instabilità delle varie realtà. A quanto pare, e sentite che questa è una cosa fighissima, il Warlock di Terra 20-209 e il Thanos di Terra 14-209 decisero di fondere il proprio desiderio di superiorità con la propria Terra Natia, creando due universi fondati dalla pazzia di Warlock e dalla distruzione di Thanos. Come potrete facilmente dedurre, queste due versioni sono molto meno stabili di quelle di una serie e questa instabilità portò il Thanos e l'Adam originali a intervenire sull'accaduto. All'interno di queste pagine ci verranno mostrate le varie strutture che compongono il multiverso, gli esseri più potenti dell'omniverso e vari team-up insieme ai guardiani, Pippi il Troll e The Gladiator contro il potente Annihilus o Annihilus, non l'ho mai capito come si chiama, però un essere che io adoro. Spiegando la frase strutture del multiverso, dopo la sconfitta del tiranno insettoide proveniente dalla zona negativa, l'Adam di Terra 20-209 decide di dirigersi verso il lato più inaccessibile dell'intero universo, incontrando il Supremo, ossia il creatore di tutto e facendo un patto con lui. A quanto pare in questo discorso tra il Titano e l'Adam alternativi ci verrà spiegata la struttura gerarchica dell'intero costrutto dell'uno sopra tutti, scoprendo che il tribunale vivente è più importante che potente. A quanto pare infatti Warlock, fondendosi con la propria realtà, assorbi anche il lato divino del tribunale e deciso a rimediare a ciò, e forzato anche dalla morte di quest'ultimo, prese il posto dell'essere dai tre volti, diventando ufficialmente il nuovo tribunale vivente, cambiando la propria realtà nella Terra 1941 e cancellando le due realtà corrosive citate a inizio versione. Cioè, beautiful, spostate proprio. Come già annunciato in tutto il video, Adam Warlock va oltre il proprio destino e secondo molti ogni realtà è destinata a sottomettersi al suo volere. Oddio, di nuovo il mio momento! Due volte nella stessa giornata non avrei mai pensato. Ma questa è un'altra storia. L'ultima cosa da dire di questo nuovo incarico dell'essere dorato è che, secondo molti, il primo tribunale torna in vita grazie al Supremo. Ma per il momento nulla è confermato. Terra 9047. Mettetevi comodi e sentite questa demenzialità. Apparso per la prima volta nel 1990, all'interno del comics What the? numero 8, questo personaggio fece parte di una super storia presente nel ventiquattresimo numero della stessa serie, combattendo, o quasi, contro Termos, la versione alternativa di Thanos. Questa versione del titano pazzo era alla ricerca del super e temibile quanto da cucina dell'infinito, per, così pare, cucinare gli eroi e conquistare la morte. Come potrete dedurre, Adam, o una sua versione, fece la sua comparsa in questa storia, sparando Silver Surfer, o Silver Burper, brutto, e aiutando Termos, o così pare, non si è ben capito. Togliendo la demenzialità di questa storia, il lieto fine non è presente per nessun eroe di Terra 9047. Ma è da dire che persino Termos rimase a bocca asciutta. Dico questo perché Lady Morte scelse un altro uomo, l'idraulico italiano più famoso del mondo, Super Mario. O perlomeno una sua versione. Terra 928. Apparso per la prima volta nel comics 2099 Unlimited numero 6 del 1994, questo personaggio non è esattamente una versione di Adam, ma lasciatemelo spiegare un po' meglio. Nato grazie ad un esperimento genetico ideato da un gruppo di misteriosi scienziati, questo essere alla sua nascita ottenne dei poteri incredibili e l'abilità di leggere attraverso la mente e l'anima di chiunque. Grazie a questa abilità e al suo sentirsi al di sopra di chiunque, il dorato o radioso decise di uccidere i propri creatori e il loro lavoro, decidendo di prendere il loro posto e creare una specie umana perfetta. Da questi esperimenti, fuori dal comune tecnologicamente avanzati, di circa un migliaio di anni, il Golden One creò la propria razza di esseri straordinari, usandoli per i propri scopi e cercando di conquistare il mondo. È da dire però che in questa Terra non sembrerebbe essere presente nessun'altra versione di Adam, ma essendo vista come una sorta di futuro alternativo, personalmente non mi stupirebbe se Adam Warlock di Terra 928 sia finito nei vertici delle entità primordiali, proteggendo o cercando di distruggere questo universo con le sue varie personificazioni. Secondo voi è realmente così? Terra MCU. Questa versione alternativa che farà sua comparsa nel terzo e ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia nel 2023 ha letteralmente spaccato i fan a metà con un semplice trailer. Ma perché? Secondo molti fan del Gladiatore Dorato, le sue origini distorte potrebbero creare dei seri cambiamenti alla mente e ai poteri del personaggio, che creato dalla sacerdotessa Ayesha potrebbe essere molto meno potente dalla sua controparte cartacea. Un altro punto a sfavore, secondo molti, è proprio il momento errato per introdurlo, perché come già detto in tutto questo video, Adam è sempre stato al centro di ogni infinito problema contro e con Thanos. E visto che ormai il Titano è morto e sepolto da almeno qualche anno, si perderebbero molte storie iconiche del personaggio. Su questo punto io ci tengo a ricordare una cosa. Vedetela come una sorta di teoria di Jay. Il Thanos di Terra MCU è morto per mano di Thor, ma quello della realtà del passato è stato polverizzato dalle gemme, che, come per gli altri, potrebbero riportare il Titano e il suo esercito in vita. Secondo me, e ripeto secondo me, Adam durante i prossimi film degli Avengers riporterà in vita il Titano pazzo grazie alle gemme di un'altra terra, per aiutare i propri compagni contro Kang o aiutare quest'ultimo perché trasformato in Magus. Ora non so se questo potrebbe essere vero o meno, ma una cosa è certa. Sono certo che le gesta nel terzo film dei Guardiani saranno solo la punta dell'iceberg perché altrimenti sarà davvero una fregatura. Poi, di questa teoria, o comunque di Adam, cosa ne pensate? Multiverso. Oltre alle versioni citate in questo video, nel multiverso Adam possiede varie versioni di sé, ma togliendo quella del videogame, dei Guardiani della Galassia, quello di Terra X, le varie serie animate, versioni malvagie, Lego e di contorno nelle varie storie, non c'è tanto da dire. Dico questo perché le origini del gesta sono molto simili a quelle di Terra 616, ottenendo incredibili poteri dall'enclave, toccando picchi di potenza incredibili grazie alle gemme e alla sua evoluzione continua e risuscitando dopo ogni morte, grazie ovviamente alle sue incredibili abilità. Quindi il mio consiglio è di recuperare più storie possibili del personaggio e di sperare che la versione MCU sia figa almeno la metà, anzi almeno un terzo di quella che poi è la sua versione 616. Ragazzi, questo video finalmente termina qui, spero che questo video vi sia piaciuto, se è piaciuto sapete già cosa fare, lasciate un bel like, condividere e iscrivetevi al canale, naturalmente attivando la campanella per non perdervi nessuna novità. Prima di continuare ci tengo a ringraziare ancora Melandria The Hood per la disponibilità e per essere apparso in questo video. Io vi saluto, per me è stato un piacere e un onore essere presente in questo video del grandissimo J Daru che ha una community splendida e che sono felice di poter incontrare finalmente faccia a faccia e vorrei ricordarvi che se vi piace la cultura pop, vi piace il mondo del fumetto, ma se siete qui immagino di sì, e vi piace tutto ciò che ruota intorno, la recitazione, il doppiaggio, la cultura pop in generale, come abbiamo detto all'inizio video, vi consiglio di seguire su Twitch quello che faccio e quello che ho fatto che facciamo insieme al mio team, perché abbiamo ospiti fighissimi ogni settimana e sicuramente, penso, non ne rimarrete delusi. Quindi grazie ancora a Jay, grazie a community fantastica, speriamo di rivederci quanto prima. Detto questo, adesso come in ogni video, saluterò le 15 persone che mi hanno commentato nello scorso video con l'hashtag richiesta, quindi ragazzi salutiamo Ragazzi, se avete salutato anche voi nel prossimo video, commentatemi qui sotto con l'hashtag Adam, ma soprattutto rispondendomi alla domanda, che ne pensate del nuovo trailer dei guardiani? Secondo voi, Adam, sarà buono o cattivo come Magus? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto ciò ragazzi, grazie ancora per aver visto questo video, lasciamo qui, sempre questo canale è fatto dirci in versioni curiosità e speciali. Ciao ragazzi, alla prossima! Come avrete letto dal titolo, oggi sarò insieme al cliente, sì, queste due potenti personale, personale, nacque in inghilterna, sì, nacque in inghilterna interna, oh, queste due potenti per, porca di quella, tornando all'enclave, questa sorta di sesta, queste due potenti, personificazione, oh, è uno scioglilingua, Adam, se la vide contro l'araldo, portante che potente, cioè, ossa, aspetta, rifaccio, Adam, se la vide contro l'araldo, ma togliendo quelle del videogame, ok, ricomincio, che palle! Galattiche insieme a molti esseri codici, eh no, se mi vuole leggere anche il codice fiscale?